Altri appuntamenti in programma dell'Associazione Cultura Nazionale, due appuntamenti questa settimana per due presentazioni, spaziamo dal mondo della politica a quello dello sport. Sì, facciamo una famosa doppietta culturale, il 24 di ottobre, quindi giovedì prossimo, viene il senatore della Lega Manuel Vescovi a presentare un libro che si chiama Osa, che non parla di politica, parla un pochino del nostro modo di vivere, di quello che siamo, di quello che potremmo essere se prendessimo coscienza di cosa è la nostra mente. E questo evento lo facciamo alla Feltrinelli Point, quindi giovedì prossimo 24 alle ore 21. Il 25 alla sezione arbitri di Arezzo, quindi allo stadio, viene un grande personaggio, viene Chico Evani, il vice di Mancini, che ci ha portato all'Europa in maniera trionfale e un grande calciatore del Milan, pluri vincitore delle coppe campioni eccetera eccetera, viene a presentare un libro che si chiama, non chiamatemi bubo, che è la sua storia di calciatore, ma soprattutto di quello che lui è stato come persona. Verrà, per l'occasione, verrà anche Francesco Repice, che è il suo grande amico, per incontrarlo e per moderare con Andrea Lorentini questo bel incontro, che si terrà venerdì sera alle ore 21, venerdì 25 alla sezione arbitri di Arezzo. Ci saranno ovviamente anche tanti altri appuntamenti che toccheranno altre tematiche, altri mondi. Sì, da novembre un pochino ci calmiamo perché già abbiamo fatto 10 eventi in 9 mesi, quindi siamo un po' stanchi, però siamo anche gioiosi perché le cose sono venute bene e quindi noi proseguiremo. Ci sarà una grande sorpresa a novembre che non posso anticipare, ma che porterà risalto ad Arezzo sulla scena nazionale.